13 L'intercapedine fra il soffitto sospeso ed il tetto di metallo era piena di alieni, tanti da non riuscire a contarli. Erano appesi a testa in giù, a tubi e travature, strisciavano come pipistrelli verso la torcia dei X, mandando riflessi metallici. Affollavano l'intercapedine fino a dove lui riusciva a illuminare. Non aveva bisogno di un detector per avvertire il movimento alle sue spalle. Si voltò di scatto, puntando il raggio su un alieno distante meno di un metro. Questo gli balzò addosso. Il caporale si chinò, sentendo sulla schiena artigli in grado di scorciare il metallo della sua armatura. Mentre lui rotolava nella sala operativa, le creature si staccarono in massa dei loro appigli. Il leggero controsuffitto esplose, facendo piovere calcinacci e forme da incubo nel locale sottostante. Newt strillò. Hudson aprì il fuoco. Vasquez aiutò X a rialzarsi, azionando contemporaneamente il suo lanciafiamme. Ripley agguantò Newt e cominciò a indietreggiare. Gorman le fu accanto in un attimo con il fucile in pugno. Nessuno badò a Burke quando questi se la diede a gambe per l'unico corridoio rimasto aperto, quello che conduceva il centro medico. Gli lanciafiamme illuminavano il caos, incenerendo un assalitore dopo l'altro. Gli alieni che bruciavano inciampavano l'uno con l'altro, mandando squitti impazziti. Sembravano grida di rabbia più che di dolore. L'acido si riversava dai corpi ustionati, scavando buchi nel pavimento e aumentando il pericolo. Il centro medico! Ripley stava arretrando lentamente, stringendosi addosso a Newt. Andiamo al centro medico! Si voltò e si slanciò nel corridoio. Qui almeno il soffitto era intatto. Mentre cercava di mettere a fuoco l'estremità del corridoio, scorse Burke, il quale, spalancata la pesante porta del laboratorio, se la stava richiudendo alle spalle. Ripley si gettò contro il pannello, afferrando la maniglia nello stesso istante in cui dalla parte opposta veniva fatta scattare la serratura. «Burke, apri la porta! Dio ti stramaledica! Burke, apri la porta!» Newt diede uno strattone ai pantaloni di Ripley, indicando il corridoio. «Guarda!» Un alieno avanzava velocissimo verso di lei, un grosso alieno. Tremante alzò il fucile, cercando disperatamente di ripassare in un istante tutti gli insegnamenti di X in merito alla potente arma. Puntò la canna esattamente al centro del lucido petto scheletrico e premette il grilletto. Non accadde nulla. L'abominio avanzava sibilando. Le fauci si spalancarono, sbavando sul terreno. «Calma, calma, non perderlo di mira!» si disse Ripley. Controllò la sicura. Era disinserita. Il caricatore era pieno. Newt le si aggrappò disperatamente ad una gamba e cominciò a piagnucolare. La donna tremava tanto violentemente da rischiare di perdere il fucile. Il mostro le era quasi addosso, quando Ripley ricordò che doveva inserire manualmente il primo proiettile ad alto potenziale nell'otturatore. Lo fece, quindi tirò convulsamente il grilletto. Il fucile sparò dritto in faccia alla cosa, scaraventandola all'indietro. Ripley si coprì subito il volto alla meglio in un istintivo gesto di difesa, ma l'impatto del proiettile così a bruciapelo aveva respinto l'alieno con tanta forza che gli spruzzi d'acido le mancarono completamente. Il tremendo rinculo le fece perdere l'equilibrio, mandandola a sbattere contro la porta. Amicò, temporaneamente accecata dalla vicinanza dell'esplosione, sforzandosi di rimettere a fuoco lo sguardo. Lo scoppio le rintronava ancora nelle orecchie. Nella sala operativa, X alzò gli occhi appena in tempo per sparare ad un assalitore, facendolo volare in un armadietto in fiamme. Questa volta il calore dei lanciafiamme aveva attivato l'impianto antincendio e gli spruzzatori avevano cominciato ad inondare la stanza. X e gli altri soldati erano completamente insuppati. L'acqua penetrava nel computer centrale della colonia, rendendolo completamente inutilizzabile. Ma almeno non impediva loro di muovere le gambe, drenata come era dai buchi provocati dall'acido, la sirena d'allarme gemeva impazzita, impedendo ai combattenti di udirsi l'un l'altro e di organizzarsi a livello tattico. Hudson si stava spolmonando per sovrastare il frastuono. «Andiamo, andiamo, al centro medico!» gli gridò X. Faceva gesti frenetici mentre indietreggiava verso il corridoio. «Muoviamoci, maledizione!» Come il Comtec si voltò per raggiungerlo, i pannelli del pavimento gli esplosero sotto i piedi. Gli artigli si tesero verso di lui. Le potenti dita triple si strinsero intorno alle caviglie trascinandolo giù. Un'altra figura torreggiante si materializzò alle sue spalle. Hudson scomparve in pochi secondi, inghiottito dall'intercapedine sottostante. X sparò una raffica verso la cavità, augurandosi di aver colpito il Comtec insieme con i suoi rapitori. Poi si voltò e corse via. Vasquez e Gorman gli erano le calcagna. L'artigliera si lasciava dietro un arco di fuoco mortale mentre copriva la ritirata. Ripley stava a naspando con la maniglia quando Newt la prese per un braccio per attirare la sua attenzione. La bambina indicò silenziosamente l'alieno. Sanguinante e semi squartato stava tentando di rialzarsi per rinnovare l'attacco. Ripley fece un paio di passi indietro, gli diede una seconda sventagliata. La bocca del fucile d'impulso si impennò verso il soffitto. Newt si coprì le orecchie per ripararle dal boato. Questa volta l'incubo giacqua immobile. Una voce risuonò le loro spalle. Cessa il fuoco! X e gli altri si materializzarono dalla nuvola di fumo e polvere. Erano sporchi di fuligine, insuppati. Lei indicò la porta. Sprangata! Non era necessario spiegare come. X si limitò ad annuire. State indietro! Prese dalla cintura un cannello sidrico che sembrava la miniatura di quello usato poco prima da Vasquez nel centro operativo e attaccò la serratura. All'estremità opposta del corridoio apparvero delle forme non umane. Ripley si chiese come facessero a seguire con tanta abilità le tracce delle loro prede. Qualche sconosciuto organo di senso? Un giorno, forse, qualche scienziato avrebbe analizzato una delle mostruosità e fornito una risposta. Possibilmente molto dopo la sua morte, poiché non aveva la minima intenzione di essere in circolazione durante l'esperimento. Vasquez passò il lanciafiamme a Gorman e imbracciò il fucile. Estratti dal tascapane degli oggetti a forma di uovo, li infilò nel lanciagranate dell'M41A. Gorman spalancò gli occhi, vedendola caricare le granate. Ehi, non puoi usarle qui dentro! Si allontanò da lei. Bene, sto violando gli articoli 95, 96, 97 e 98 del regolamento, relativi alla voce scontro in ambiente ristretto. Mi faccia rapporto! Puntò il fucile contro l'orda in arrivo. Fece partire le prime granate, voltando leggermente la testa. L'esplosione della granata fece barcollare Ripley e per poco non mandò Vasquez lunga distesa. Ripley era sicura di aver scorto un sorriso sulle labbra dell'artigliera, alla luce della deflagrazione. X agitò la fiamma bluastra del cannello, prima di recuperare l'equilibrio e riprendere a scassinare la porta. La serratura cadde un attimo dopo all'interno. Il caporale si rimise il cannello sidrico alla cintura, si raddrizzò e sfondò la porta con un calcio. Volarono goccioline di metallo fuso, ma X ed i suoi compagni non ci badarono. Erano abituati a scansare gli spruzzi di acido. Si voltò un attimo per gridare a Vasquez, «Grazie mille! Adesso non riesco a sentire un cavolo!» Lei affettò un'espressione smarrita, genuina e spontanea quanto la sua natura gentile, mettendo la mano a coppa dietro l'orecchio. «Come hai detto?» Irrupero nel laboratorio semidistrutto. Vasquez entrò per ultima. Su chiuse per metà la porta, quindi sparò tre granate in rapida successione attraverso lo spazio rimasto. Un attimo prima dell'esplosione chiuse del tutto la porta e corse via come il diavolo. Il triplice boato risuonò come un gong gigantesco, scardinando la barriera metallica. Ripley aveva già attraversato il locale per provare l'altra porta. Stavolta non fu sorpresa di trovarla chiusa. Cominciò a lavorarci attorno, mentre X saldava quella da cui erano appena entrati. Nel laboratorio principale, Burke prese ad indietreggiare. Questa volta non ci sarebbero state discussioni sulle sue ipotetiche, malefatte o garbate concessioni reciproche. Li avrebbero sparato a vista. Forse X e Gorman si sarebbero dominati, ma non avrebbero potuto fermare Hudson o quella pazza di Vasquez. Si avvicinò ansimante alla porta che conduceva nel complesso principale. Se l'attenzione degli alieni era interamente concentrata sui suoi ex compagni, poteva ancora trionfare nonostante tutte le cose che erano andate storte. Poteva sgattaiolare nella colonia vera e propria, lontano dalla battaglia, fino ad arrivare per vie traverse al campo d'atterraggio. Bishop era sensibile alle argomentazioni umane, come ogni buon sintetico. Forse sarebbe riuscito a convincerlo che tutti gli altri erano morti. Se avesse giocato bene la carta dell'inganno semantico e poi disattivato il comunicatore dell'androide, in modo che gli altri non lo contattassero per confutare la sua asserzione, a lui e Bishop non sarebbe rimasto che decollare più presto. Se la direttiva fosse stata impartita con sufficiente autorità e senza nessuno a contraddirla, Bishop avrebbe dovuto eseguire, almeno in teoria. Stava allungando la mano verso la porta quando si sentì gelare. La maniglia stava già girando. Semi paralizzato dal terrore barcollò indietro, mentre la porta si apriva lentamente. Crac! Il colpo arrivò dall'alto, violentissimo. Nessuno degli uomini nel centro medico, l'Udi. Le granate di Vasquez avevano fatto piazza pulita nel corridoio, abbastanza da permettere ad Hicks di terminare la saldatura della porta. L'operazione avrebbe assicurato loro qualche minuto di salvezza in più, nient'altro. Il caporale si allontanò dall'ingresso e armò il fucile per lo scontro finale, mentre qualcosa cozzava contro la barriera, deformando il pannello. Un secondo urto fece gemere il metallo e la porta cominciò a staccarsi dall'intelaiatura. Newt stava dando strattoni insistenti alla mano di Ripley. Finalmente la donna le diede retta, distogliendo a fatica la tensione della porta. Vieni, da questa parte! Newt la tirava verso la parete opposta. Non funzionerà, Newt! Riesco, ma la pena infilarmici nel tuo nascondiglio. Gli altri hanno le armature e alcuni di loro sono più grossi di me. Non riuscirebbero mai a entrarci. Non quello, ce n'è un altro! Dietro una scrivania si apriva una presa d'area rettangolare. Newt, con gesti esperti, staccò la griglia di protezione dalla parete. Stava per infilarsi dentro, ma Ripley la fermò. La bambina la guardò di sotto in su. So dove sto andando! Non ne ho dubitato neanche per un minuto, Newt. Soltanto che non ci andrai per prima, ecco tutto. Ci sono sempre andata per prima. Perché non c'ero io? E perché non avevi tutti gli alieni di Acheron a darti la caccia? Raggiunse Gorman e prima che potesse protestare, scambiò il proprio fucile con il lanciafiamme di lui. Fermatasi quel tanto per dare una ruffatina affettuosa ai capelli di Newt, Ripley si mise in ginocchio e si infilò nel pertugio. Era un ambiente oscuro, sconosciuto, ma in quel momento le parve un vecchio amico rassicurante. Si voltò. Chiama gli altri. Tu stai dietro di me. Newt anui vigorosamente scomparve. Tornò dopo qualche secondo, tuffandosi nel condotto e appiccicandosi a Ripley, mentre la donna più anziana cominciava ad avanzare. Le seguivano Hicks, Gorman e Vasquez. Tra le armature e grossi fucile in pulso, i soldati erano pigiati come sardine, ma tutti riuscirono a superare l'ingresso. Vasquez si fermò al tempo necessario per richiudere la griglia dietro di lei. Se il tunnel più avanti si fosse ristretto o ramificato in derivazioni secondarie più piccole, sarebbero rimasti in trappola. Ma Ripley non era preoccupata. Aveva molta fiducia in Newt. Alla peggio avrebbero avuto il tempo di scambiarsi gli addi, prima di tirare a sorte chi avrebbe vibrato il colpo di grazia. Si assicurò con un'occhiata che la ragazzina fosse dietro di lei. Abituata a muoversi velocissima nel labirinto di condutture, Newt quasi si arrampicava sulle gambe di Ripley. Forza, va più in fretta! Sto facendo del mio meglio. Non sono tagliata per questo, Newt. Nessuno di noi lo è e non abbiamo la tua esperienza. Sei certa di sapere dove ci troviamo? Naturalmente. La voce della bambina conteneva una sfumatura di cortese disprezzo, come se Ripley avesse dichiarato la cosa più ovvia del mondo. E sai come raggiungere il campo d'atterraggio da qui? Certo, prosegui. Tra poco questo entrerà in un tunnel più grande. Poi svolteremo a sinistra. Un condotto più grande? La voce di X è che già tra le pareti metalliche. Piccola, quando torneremo a casa ti comprerò la bambola più grande che tu abbia mai visto o qualsiasi cosa desideri. Un letto andrà benissimo, signor X. In effetti, dopo diversi minuti di avanzata, ingrociarono il condotto di ventilazione principale della colonia proprio nel punto previsto da Newt. Era abbastanza spazioso da permettere loro di camminare rannicchiati, invece di strisciare. Le mani e le ginocchia di Ripley sospirarono di sollievo. Il passo si fece più rapido. Continuava a sbattere la testa contro il soffitto, ma era tale il piacere di non dover più camminare a quattro zampe che nemmeno ci badava. Nonostante tutto, Newt era ancora vantaggiata. Dove gli adulti erano costretti a chinarsi per evitare il soffitto, la bambina poteva stare dritta e correre. Le armature sbattevano e stridevano nell'angustia della galleria, ma a quel punto tutti sapevano che la velocità era più importante del silenzio. Gli alieni avevano un udito debole e li localizzavano grazie all'odorato. Stavano arrivando all'incrocio con un altro condotto importante. Ripley rallentò per dare una spazzata preventiva con il lanciafiamme, bruciacchiando metodicamente entrambi i passaggi. In quale direzione? Newt non stette nemmeno a pensarci. Qui, a destra. Ripley svoltò, imboccando il tunnel di destra. Era un po' più piccolo di quello principale, ma più ampio di quello usato per fuggire dal centro medico. Intanto X stava sintonizzando la sua trasmittente a cuffia. Bishop, qui è X. Mi ricevi? Mi ricevi, Bishop? Passo! Sulle prime, nessuno rispose alla chiamata. Poi il silenzio fu interrotto da una voce distorta, ma ancora riconoscibile. Sì, la ricevo. Non troppo bene. È sufficiente. Migliorerà mano a mano che ci avviciniamo. Stiamo arrivando attraverso il sistema di condutture della colonia. Per questo la trasmissione è cattiva. Come vanno le cose lì da te? Bene e male. Il vento è aumentato parecchio, ma la navetta è in viaggio. La sulaco ha appena confermato lo sgancio. Tempo d'arrivo stimato, 16 minuti. Ho le mani completamente impegnate dal pilotaggio a distanza con questo vento. Un rombo elettronico distorse la frase finale. Cos'era? X armeggiò con i dispositivi della trasmittente. Ripeti, Bishop? Era il vento? No, la stazione del processore atmosferico, l'impianto di autoregolazione prossimo al collasso. Ci siamo quasi, caporale X. Non fermatevi a fare merenda. Il soldato sorrise nell'oscurità. Non tutti i sintetici erano programmati per il senso dell'umorismo. O se lo erano, non lo sapevano usare. Bishop era qualcosa di diverso. Non preoccuparti, ora come ora nessuno di noi ha fame. Faremo in tempo. Aspettaci lì. Chiudo. Occupato con la comunicazione, finì quasi addosso a Newt. La bambina si era arrestata. Vide che anche Ripley si era fermata. Che succede? Non ne sono sicura. La voce di Ripley era spettrale nell'oscurità. Giurerei di avere visto laggiù. Al limite della portata delle torce, Hicks intravide una scena a forma in movimento. Come un furetto, l'alieno l'ha riuscito in qualche modo ad appiattirsi, abbastanza da penetrare nel condotto. Dietro di lui c'era dell'altro movimento. Indietro! Tutti indietro! gridò Ripley. Cercarono tutti di battere in ritirata, urtandosi nello spazio ristretto. Alle loro spalle cheggiò il rumore di una grata di velta. L'inferriata cadde con un clangore metallico e una sagoma mortale scivolò attraverso l'apertura. Vasquez si voltò e scaraventò una nuvola di fuoco nel tunnel retrostante. Tutti sapevano che era una vittoria temporanea. Erano in trappola. Vasquez si piegò di lato, guardando verso l'alto. C'è un condotto verticale proprio qui sopra. È liscio, senza pigli. Impossibile arrampicarsi. Maledizione! Hicks accese il cannello sidrico e cominciò a tagliare la parete del tunnel. Il metallo fuso gocciolò sull'armatura, mentre le scintille illuminavano il condotto di luce rossastra. Il lanciafiamme di Vasquez ruggì nuovamente. Stiamo sprecando combustibile! La colonna di alieni continuava ad avvicinarsi, rallentata dall'angustia del condotto. Hicks stava aprendo un passaggio nella parete. Era già a tre quarti del lavoro quando la fiamma ossidrica tremolò e si spense. Bestemmiando, si appoggiò alla parete opposta e tirò un calcio. Il metallo si piegò. Un altro calcio. E la via fu aperta. Senza chiedersi cosa ci fosse dall'altra parte, afferrò il fucile e si tuffò nell'apertura. Era uno stretto passaggio di servizio pieno di tubature. Senza badare i bordi ancora incandescenti dello squarcio, Hicks tornò nel condotto per portare Newton salvo. Ripley li seguì. Poi si voltò per aiutare Gorman. In quel momento il lanciafiamme di Vasquez si esaurì. La donna lo gettò da parte ed estrasse il revolver. Proprio sopra di lei una figura grottesca stava scendendo dal tunnel verticale. Mentre l'alieno cadeva nel condotto sottostante, Vasquez rotolò via e aprì il fuoco con la pistola automatica. I piccoli proiettili crivellarono il corpo scheletrico, ma l'alieno attaccò ugualmente. Lei riuscì a piegare la testa appena in tempo per evitare il colpo. Poi scaricò la pistola, cercando nel contempo di non farsi prendere dalle potenti gambe dalla coda. Infine uno spruzzo d'acido penetrò la corazza, ustionandole una coscia. Vasquez emise un gemito soffocato. Gorman si sentì raggelare. «Sono proprio dietro di me!» disse a Ripley. «Andate avanti!» Per qualche istante i due si fissarono. Poi lei corse via, trascinandosi appresso Newt. Hicks le seguì riluttante. Gorman strisciò verso la donna immobilizzata quando la raggiunse e vide che dal buco dell'armatura usciva del fumo. C'era un odore nauseante di carne bruciata. La afferrò per le cinghie, trascinandola verso l'apertura. Troppo tardi. Un alieno aveva già oltrepassato la via di fuga aperta da Hicks. Gorman smise di tirare e si protese a guardare la gamba di Vasquez. Dove l'armatura e la carne erano state divorate dall'acido. Si vedeva biancheggiare l'osso. La donna alzò gli occhi vitrei. Mormorò con voce aspra. «Sei sempre stato uno stronzo, Gorman!» Gli strinsero a mano. Una stretta di morte. Una stretta speciale, riservata a pochi eletti. Gorman cercò di ricambiarla come poteva. Poi le diede due granate e ne armò un altro paio per sé, mentre gli alieni si avvicinavano da entrambe le direzioni. Soghignando sollevò uno degli ordigni ronzanti. Vasquez ebbe a malapena la forza di imitare il gesto. «Salute!» sussurrò Gorman. Aveva gli occhi chiusi, pur era certo che la donna gli stesse sorridendo. Qualcosa di duro e tagliente lo colpì alla schiena. non si voltò per vedere cosa fosse. «Offanculo!» sussurrò debolmente. Batte la sua granata contro quella di Vasquez per il brindisi finale. Alle loro spalle il corridoio si illuminò improvvisamente. Ripley, Newt e X stavano correndo a tutta velocità. Erano ormai parecchio distanti dall'apertura, ma l'onda d'urto della quadruplice esplosione fu ugualmente capace di scuotere l'intero livello. Newt riuscì a tenersi in equilibrio e sorpassò di corsa i due adulti. Ripley ed X faticavano a starle dietro. «Da questa parte! Da questa parte! Venite, ci siamo quasi!» «Newt, aspetta!» Ripley cercò di allungare il passo per raggiungerla. Il cuore le rimbombava nelle orecchie, i polmoni protestavano, le pareti sembravano turbinarle intorno. Avvertiva malapena la presenza di X, che correva alle sue spalle come una macchina a vapore. Malgrado l'armatura avrebbe potuto facilmente distanziarla, invece chiudeva la corsa per proteggerle da un eventuale attacco alle spalle. Più avanti il corridoio si biforcava. Al termine della diramazione di sinistra, uno stretto condotto di ventilazione a gomito saliva con una pendenza di 45 gradi. Newt si era fermata alla base, facendo gesti frenetici. «Qui, il passaggio è questo!» Ripley si arrestò, felice di poter riprendere fiato, anche se solo per pochi istanti. Esaminò il condotto. Era una salita ripida ma non lunga, sul fondo c'era un debole chiarore. Dall'alto si udiva il vento mughiare come aria soffiata contro la bocca di una bottiglia. Lungo le liscie pareti del sifone c'erano dei piccoli pioli. Ripley abbassò lo sguardo. Il condotto proseguiva sotto il pavimento, sparendo verso profondità sconosciute perse nelle tenebre. Non si muoveva niente laggiù, niente si arrampicava verso di loro. Appoggiò il piede sul primo piolo ed iniziò a salire. Newt la seguì mentre Hicks si materializzava dietro di loro dal corridoio principale. La bambina si voltò agitando una mano. «Su, di qua, signor Hicks. Non è lontano come sembra. Ci sono passato un mucchio di voce». Arrugginito dalle infiltrazioni d'acqua, consumato dalle sostanze corrosive contenute nell'atmosfera di Acheron, il piolo le si staccò sotto i piedi. Newt scivolò, annaspando per afferrarne un altro con la mano. Ripley si strinse contro la superficie pericolosamente liscia del condotto. Poi si voltò per aiutare la bimba. Nel farlo le cadde la torcia. La luce confortante fu inghiottita dall'apertura e scomparve dalla vista. Tese il braccio quanto più poteva, cercando di afferrare le dita di Newt, ma per quanti sforzi facesse. Mancava sempre qualche centimetro. Ripley! Newt perse la presa. Mentre cominciava a scivolare lungo il sifone, Hicks si tuffò verso di lei senza preoccuparsi dell'impatto. Piombò sul pavimento vicino all'apertura. Le sue dita artiglierono il colletto della giubba troppo larga in una morsa disperata. Newt scivolò fuori dal vestito. Il grido della bambina risuonò nel cunicolo mentre lei svaniva nell'oscurità. Hicks gettò a terra la giubba e guardò Ripley. I loro occhi si incontrarono per un attimo, prima che la donna mollasse la presa e si lasciasse scivolare dietro Newt. Cercò di puntare i piedi in fuori per controllare la discesa. Come il corridoio superiore, il cunicolo si biforcava nell'incrociare il livello sottostante. La torcia brillava alla destra di Ripley. Spostò il peso in modo da scivolare in quella direzione. Newt! Newt! Un gemito lontano, lamentoso, distorto dalla distanza e dallo spessore del metallo. Mamma! Dove sei? Era a malapena audibile. Aveva forse imboccato l'altro condotto? Il cunicolo terminava in un tunnel di servizio orizzontale. La torcia era sul pavimento, intatta, ma non c'era traccia della ragazzina. Mentre Ripley si chinava a raccogliere la lampada, un altro lamento rimbalzò tra le strette pareti. Ripley infilò il tunnel in quella che si augurava fosse la direzione giusta. La folle discesa dal cunicolo l'aveva completamente disorientata. Udi una nuova invocazione. Più debole? Non avrebbe saputo dirlo. Il panico si stava impadronendo di lei. Si guardò attorno, illuminando solo sporcizia ed umidità. Ogni ombra sembrava raffigurare fauci sogghignanti, bavose. Ogni cavità era una bocca aliena spalancata. Si ricordò allora che aveva ancora addosso la cuffia. E si ricordò anche di qualcos'altro. Qualcosa che il caporale le aveva dato e lei gli aveva restituito. Hicks, scendi qua giù. Mi serve il localizzatore per quel bracciale che mi hai dato. Mise le mani a coppa e gridò. Niot, ovunque ti trovi, non muoverti. Stiamo arrivando. La bambina era in una camera bassa, una specie di grotta intersecata da tubature e di plastica e per di più allagata. La poca luce proveniva dall'alto, attraverso una robusta grata. Forse anche la voce di Ripley arrivava da là, pensò. Usando la rete di tubi, cominciò ad arrampicarsi. Una forma voluminosa, massiccia, piombò alla base del cunicolo. Hicks non l'avrebbe considerata una descrizione losinghiera, ma Ripley era immensamente felice di vederlo, per quanto disordinato fosse il suo aspetto. La semplice presenza di un altro essere umano in quel tunnel infernale era sufficiente a diminuire un poco il suo terrore. Hicks atterrò in piedi, stringendo il fucile. Staccò dalla cintura il localizzatore d'emergenza. «L'ho dato a te, quel bracciale!» le disse in tono d'accusa, mentre accendeva il localizzatore. «E io l'ho dato a Newt. Ho pensato che ne avesse più bisogno lei e avevo ragione. Senza il bracciale sarebbe impossibile trovarla qui dentro. Puoi prendertela con me più tardi. In quale direzione?» Lui esaminò il readout del localizzatore. Si voltò e cominciò ad avanzare nel tunnel. Arrivarono in un tratto in cui non era stata tolta la corrente. Le luci di emergenza rischiaravano ancora il soffitto e le pareti. Spensero le torce. Da qualche parte, lì vicino, l'acqua gocciolava. Il caporale non staccava gli occhi dallo schermo dell'apparecchio. Si voltò verso sinistra. «In questa direzione! Siamo vicini!» Il localizzatore li condusse in ampia grata posta sul pavimento. Ne uscì una voce. «Ripley!» «Siamo noi, Newt!» «Qui! Sono qui! Sono qui sotto!» Inginocchiata sul bordo della grata, Ripley afferrò la sbarra centrale e tirò. Non si mosse. Una rapida ispezione rivelò che era saldata al pavimento e non semplicemente avvitata. Scrutando nell'interno, riusciva a distinguere solamente il viso rigato di lacrime di Newt. La bambina raggiunse la grata, infilando le piccole dita tra le sbarre. Ripley dette loro una strizzatina rassicurante. «Scendi da quel tubo, tesoro! Dovremmo sfondarla! Ti tireremo fuori in un minuto!» La piccola si allontanò ubbidiente, calandosi giù dalle tubature. Hicks accese il cannello ossidrico. Ripley guardò l'oggetto in modo significativo, poi chiese sottovoce. «Quanto combustibile c'è!» Ricordava come il lanciafiamme di Vasquez si fosse esaurito in un momento critico. «A sufficienza!» Cominciò a tagliare la prima sbarra. Dal basso Newt osservava la pioggia di scintille, mentre Hicks fendeva la lega rinforzata. Faceva freddo nel tunnel e lei era di nuovo nell'acqua. Si morse le labbra e ricacciò indietro le lacrime. Non vide la lucente apparizione emergere silenziosamente dall'acqua alle sue spalle, e comunque non avrebbe fatto alcuna differenza. Non c'era posto dove correre, né provvidenziali prese d'aria in cui infilarsi. Per qualche istante l'alieno torreggiò immobile sulla piccola figura. Solo quando riprese a muoversi Newt avvertì la presenza e si girò di scatto. Ebbe appena il tempo di gridare, mentre l'ombra la inghiottiva. Ripley udì l'urlo ed il breve tonfo nell'acqua e perse completamente la testa. La grata era tagliata per metà. Lei e Hicks la tirarono e la presero a calci finché una parte si piegò verso il basso. Un altro calcio fece cadere in acqua il blocco di metallo contorto. Senza badare i bordi roventi, Ripley si protese sull'apertura. La torcia illuminava come impazzita tubi e condutture. Newt! Newt! La superficie dell'acqua scura rifletteva la luce della lampada. Dopo aver inghiottito la griglia era tornata calma e immobile. Della bambina. Nessuna traccia. A provare che era stata lì. C'era solo Casey. Poi anche la testa della bambola sprofondò nell'oscurità oleosa. Newt! X dovete trascinarla via di peso dall'apertura. Ripley lottava selvaggiamente cercando di liberarsi. No! No! Ci vollero tutto il suo peso e la sua forza per strapparla dall'imboccatura. È morta! Non c'è niente che tu o io o chiunque altro possiamo fare! Andiamo via! Scorse qualcosa muoversi all'estremità opposta del corridoio che le aveva condotti alla grata. forse si era trattato solo di un'illusione ottica. Le illusioni ottiche su Acheron potevano rivelarsi fatali. Ripley stava piombando rapidamente in una crisi isterica. Urlava e piangeva e agitava gambe e braccia. X dovete sollevarla da terra per impedirle di tuffarsi nella botola. Un tuffo in quelle acque oscure era un modo rapido per suicidarsi. No! No! È ancora viva! È ancora viva! Ma dobbiamo... Va bene! È viva, ti credo! Ma dobbiamo muoverci! Adesso! Non riuscirai mai a trovarla in questo modo! Fece un centro in direzione del pavimento. Lei non sarà ad aspettarti lì sotto, ma loro sì! Guarda! Tese il dito e lei smise di lottare. All'estremità del tunnel c'era un montacarichi. Se in questo settore c'è energia di emergenza per le luci, forse funzionerà anche quelle! Usciamo di qui! Una volta in alto proveremo a risolvere il problema senza che ci saltino addosso! Dovette quasi trascinarla e spingerla nell'elevatore. Il movimento che aveva notato in fondo al tunnel si materializzò nella sagoma di un alieno avanzante. X quasi frantumò con il pollice e il bottone di salita. Le doppie porte cominciarono a chiudersi, ma non abbastanza in fretta. La creatura infilò un enorme braccio tra loro, attivando la cellula di sicurezza e facendola riaprire. L'ascensore non era in grado di distinguere tra umani e alieni. La sbavante abominazione fece un balzo in avanti. X la respinse con un colpo a bruciapelo del suo fucile impulso, troppo vicino. L'acido spruzzò attraverso le porte che si stavano richiudendo, prendendo in pieno l'armatura di X che faceva scudo con il proprio corpo a Ripley. Per fortuna non colpì i cavi dell'elevatore. La cabina arrancò verso la superficie, succhiando la debole energia d'emergenza. X armeggiò freneticamente con i bloccaggi dell'armatura, mentre il potente liquido penetrava attraverso la fibra composita. Ripley riuscì finalmente a dominare il panico. Si aggrappò ai tiranti, facendo il possibile per aiutarlo. L'acido raggiunse il petto e un braccio dell'uomo. X cacciò un urlo, sgusciando dall'armatura come un insetto dalla vecchia pelle. Le piastre fumanti caddero sul pianale, cominciando a corrodere il metallo sottostante. La cabina si era riempita di vapori che bruciavano occhi e polmoni. Dopo un tempo interminabile, l'elevatore si arrestò. L'acido aveva sfondato il pavimento e gocciolava sui cavi e le ruote di supporto. Le porte si aprirono, entrambi balzarono fuori. Ora toccava Ripley sostenere X. Il suo petto continuava a fumare. Il caporale era piegato in due, in agonia. «Forza, puoi farcela! Pensavo che fossi un duro!» Cercò di ispirare profondamente tra un colpo di tosse e un altro. Lui ansimò, strinse i denti e tentò di sorridere. Dopo i miasmi delle condutture, l'aria quasi bucolica di Acheron olezzava come un profumo. «Ci siamo quasi!» Sopra di loro, non lontana, la lucida sagoma della navetta 2 stava scendendo come moto irregolare verso il campo d'atterraggio come un angelo nero, sbandando su un lato a causa dei venti superficiali di Acheron. Scorsero Bishop di schiena, ai piedi della torre, occupato a combattere con il suo terminale portatile per completare l'operazione. La navetta compì un atterraggio violento, poi slittò di lato e si arrestò al centro della pista. A parte un montante piegato, la goffa manovra non sembrava averle procurato danni. Ripley gridò. Giratosi, il sintetico scorse i due a arrancare fuori dall'edificio centrale della colonia. Appoggiato con estrema delicatezza al terminale, corse ad aiutarli. Sostenendolo con le fortissime braccia, trascinò X verso la navetta. Le parole di Ripley erano a malapena udibili nella tempesta. «Quanto tempo?» «Parecchio!» Bishop sembrava compiaciuto ed aveva ragione di esserlo. «Ventisei minuti!» «Non partiamo!» lo disse mentre stavano salendo sulla rampa verso il tepore e la sicurezza della nave. Bishop restò a bocca aperta. «Perché? Perché no?» Lei lo studiò attentamente, alla ricerca della minima traccia d'inganno sul suo volto, ma non ne trovò. La sua domanda era perfettamente comprensibile, date le circostanze. Ripley si rilassò un poco. «Te lo dirò tra un minuto. Mi dichiamo X, sbarriamo questo guscio e te lo spiego».